Anno nuovo, squadra nuova, quali sono le motivazioni con cui inizia la stagione? Sì, quest'anno è una squadra nuova, adesso stiamo un po' definendo il calendario e i primi appuntamenti, motivazione è tanta, squadra giovane, tutti italiani, quindi è un bel ambiente. Ma in BMC è un ambiente molto più rigido, ogni corridore fa la sua, invece è più un ambiente familiare. BMC ti insegna soprattutto a lavorare con grandi corridori come l'Oera Ricciport o Van Garderen, e quindi ti trovi molte volte in squadre che hanno come obiettivo quello di vincere e quindi devi lavorare, impari tanto. Ma sicuramente andare subito in BMC mi ha fatto fare tre anni di esperienza che quindi mi serviranno adesso. Dal punto di vista dei risultati sì, sei un po' limitato perché molte volte ti trovi a lavorare per grandi capitani, però comunque cresci molto velocemente. Ma quella è stata una bellissima esperienza, era tanto che lavoravo per i miei capitani e poi lì aver avuto carta bianca e aver portato a casa il massimo risultato è stata un'esperienza bellissima. Ma una corsa a cui ci tengo molto soprattutto nella prima parte di stagione è Coppe Bartali perché si corre in casa e poi vediamo un po' il giro d'Italia. No sì sì, è un'attapa ovviamente. Se riuscissi magari a vincere una gara a tappe e magari una tappa a giro.